Il nostro mestiere ci servono molte caratteristiche, innanzitutto il desiderio di farlo, il desiderio di infischiarsene di quello che dicono gli altri quando vogliamo fare questo mestiere qua. Bisogna stare nel posto giusto, nel momento giusto, con la preparazione giusta però, perché ti capiteranno, ti capiteranno a tutti voi, a tutti voi delle grandi occasioni. Il problema è, saremo la persona giusta in quel momento? L'attore si diventa qua, perché tu devi entrare, devi svegliare il mattino e dici che lavoro faccio, faccio l'attore. Questa è la cosa più importante, però per fare un attore e essere in una scuola i contatti sono la cosa più importante. Io ho conosciuto molte scuole diverse da questa, alcune senza senso, assolutamente posso dire, e senza motivo se non quello di rimpinguare le casse di quelli che provano a fare. Altre, magari molto formative, molto buone, che però rispetto a questa ti mancavano, ti davano uno step in meno. Cioè magari ti potrebbero formare molto bene, magari all'altezza di questa scuola qui, però poi non avevi quel lumus intorno a te, quella frequentazione di quelli che già fanno questo mestiere. Perché tu esci da una buona scuola, ti formi, fai tre anni, quattro anni di scuola e poi entri nel lavoro e non conosci nessuno. Qua ti formi con gli stessi che ora ti fanno lavorare e che ora lavorano. Questo è una grandissima opportunità. Cioè la cosa importante è credere in quello che facciamo e non mollare mai. La cosa importante, secondo me, è questa. Cioè io di mestiere faccio l'attore. Finché farete questo mestiere, prima riuscirete a liberarvi di, adesso non voglio dire di mollare tutto quello che fate e roba, ma prima arriverete a fare per un periodo di tempo solo questo. Cioè questo è il vostro obiettivo al mattino, alla sera e soprattutto sappiate che potete migliorare. Un giorno capirete come si fa questo mestiere qua. Però la cosa importante è adesso cominciare a farlo. Qui c'avete un fior di registi, fior di casting, attori che vengono a insegnarvi, doppiatori che vengono a insegnarvi. Cioè avete una grande opportunità per farvi i bagagli. Però l'unica cosa che non vi possono dare, lo vi danno tutto, l'unica cosa che non vi possono dare è la convinzione vostra di essere in attore. Grazie a tutti.